Soprattutto in Abruzzo, perché questa regione mi ha letteralmente rubato, insomma, dopo aver passato degli anni a Giulianova. Adesso affronto questa avventura qui a Nereto, nell'entroterra, dal mare al centro della regione. La cosa è entrare in corsa è sempre un po' difficoltoso, anche perché noi tutti allenatori preferiamo sempre cercare di dare da subito, anche durante la preparazione, una propria identità, la propria squadra, crearla. Forse è la parte migliore della stagione, anche perché lì non ci sono le pressioni sia della piazza ma soprattutto i risultati. Per cui entrare in corsa è vero, l'anno scorso l'ho fatto e devo dire che abbiamo ottenuto un ottimo risultato. Ed è lo stesso risultato del quale cercheremo veramente di poternosifrire, arrivare, perché quella della salvezza e uscire dalla parte bassa della classifica deve essere una nostra priorità. C'è tutto il tempo davanti per cui credo che si possa, con estrema fiducia, raggiungere. Con ogni probabilità avrà preso visione delle partite precedenti della squadra, quali sono state, secondo lei, le pecche di questa formazione? Le pecche a volte sono partite iniziali. All'inizio il campionato non è mai veritiero, poi ci sono stati giocatori che sono arrivati pure in corsa, per cui sappiamo bene che quando arrivano giocatori alla spicciolata, gli stessi magari non sono prettamente subito pronti per affrontare gare importanti di campionato. Questa è una squadra che va amalgamata, soprattutto questo, che va amalgamata e che soprattutto veda come principale, così come la società, l'amministrazione, i tifosi qui a Nereto, si sono creati l'obiettivo soprattutto di fare bene, ma salvarci. L'obiettivo di tutte le squadre e anche del Nereto è quello di poter arrivare con più uomini e il più velocemente possibile davanti alla porta avversaria.